è diventato quasi un assist per Diego, bravissimo però Pizzarro a sradicare il pallone dai piedi di Diego ancora Pizzarro, eccolo, il grosso per l'Isa di Tosta GO! 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 John! 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 Il 2-1 per la Roma! Il 2-1 per la Roma al quarantasettesimo ci aveva provato la prima volta Riese, ha fatto cacciare Buffon, la seconda ha fatto secco Manninger 2-1 per la Roma! 2-1 per la Roma! John Arnerise, 2-1 per la Roma, gol numero 2 gol numero 2 in maglia giallorossa in questa stagione, il primo gol lo ha segnato a Siena lo ha segnato a Siena sul calcio di punizione, adesso di testa in area di rigore il cross di Pizzarro pennellato per John che schiaccia e batte Manninger esplode il settore dei tifosi della Roma, esplode di gioia, che gioia segnare adesso negli ultimi istanti della partita, che gioia! Che gioia incredibile! E siamo a 45 secondi, 45 secondi dal termine in superiorità numerica 2-1 per la Roma! Ennesimo risultato che la Roma recupera!